Nello scorso video abbiamo calcolato la derivata della funzione esponenziale del logaritmo. Abbiamo visto che la derivata di un esponenziale rimane è alla x, mentre la derivata di un logaritmo naturale è 1 su x. In questa lezione ci occuperemo dell'ultimo calcolo delle funzioni elementari e stiamo parlando della derivata del seno e del coseno. Per quanto riguarda le altre derivate vi farò una tabella, basterà utilizzare quella. Ovviamente io mi fermo a seno e coseno perché queste insieme ai due video precedenti rappresentano tutte le funzioni elementari che vi ritroverete più frequentemente. Ok, ora vogliamo calcolare la derivata di f di x uguale a seno di x. Allora, quanto è uguale a f di x più h? Beh, al posto di x dovete mettere x più h, quindi è uguale a seno di x più h. Adesso dobbiamo sostituire questi due valori all'interno del limite del rapporto incrementale. Quindi limite per h che tende a 0 di seno di x più h meno seno di x diviso h. Ora, è chiaro che scritta sotto questa forma non ci aiuta, non riusciamo a calcolare questo limite. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riscrivere questo seno di x più h in una maniera più consona. Cioè come? Beh, in realtà cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sfruttare la formula della somma del coseno. Cioè, voi dovreste già sapere che esiste questa formula. Seno di alfa più beta è uguale a che cosa? Al prodotto di seno di alfa coseno di beta più seno di beta coseno di alfa. Ora dobbiamo usare questa formula qui dentro. Quindi cosa possiamo scrivere? Questo è uguale al limite per h che tende a 0. A posto di seno di x più h dobbiamo scrivere questo. Quindi seno di x coseno di h più che cosa? Seno di h coseno di x meno seno di x diviso h. Ok. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere in evidenza seno di x. tra questo termine e questo. Ok. Cosa viene fuori? Abbiamo il limite per h che tende a 0 di seno di x che moltiplica. Allora abbiamo coseno di h meno 1. Poi più il resto si ricopia così com'è. Quindi seno di h coseno di x diviso h. Ora cosa dobbiamo fare noi? Beh, dobbiamo in questo caso spezzare il denominatore. Che è una cosa che si fa abbastanza frequentemente. Quindi questa che cosa è uguale? È uguale al limite per h che tende a 0 di seno di x coseno di h meno 1 diviso h più che cosa? Seno di h diviso h coseno di x. Ovviamente qui mettiamo delle parentesi quadre perché è chiaro che il limite si riferisce a tutti i termini. Ora state bene attenti perché è chiaro che noi il limite lo dobbiamo calcolare solo a quelle quantità che dipendono da h. Le quantità che dipendono da x non hanno a che fare con il limite. Quindi che significa? Che noi lo possiamo scrivere il tutto in questo modo. Limite per h che tende a 0 di seno di x che rimane a parte. E poi qui cosa possiamo scrivere? Coseno di h meno 1 diviso h più... Qui dobbiamo fare la stessa cosa. In realtà l'ha già fatto. Seno di h diviso h coseno di x. Adesso noi dobbiamo capire queste quantità dove vanno a finire. Cioè questa quantità che dipende da h è questa quantità. Allora questo rappresenta un limite notevole e sappiamo a prescindere che il suo valore è pari ad 1. Invece questo qui a che cosa è uguale? Beh dovreste già saperlo però se non lo sapete ve lo dico io. E ovviamente vi dovete fidare, andate anche a controllare su alcuni libri, che questo limite fa per h che tende a 0, tende a 0, tende ad assumere il valore 0. Quindi che significa? Che questa quantità si elimina, questa va a 1 e quindi rimane coseno di x. Quindi cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto una cosa molto importante, cioè che la derivata prima di f, la derivata prima di seno di x coincide con il coseno di x. Quindi la derivata del seno è il coseno. Adesso vediamo cosa succede quando abbiamo la derivata prima del coseno di x. Allora i calcoli in realtà sono abbastanza simili. Quindi vediamo, f di x più h ovviamente è uguale a coseno di h più x o x più h è la stessa cosa. Quindi il limite per h che tende a 0 di che cosa? Coseno di x più h meno coseno di x diviso h. Anche qui il coseno di x più h lo dobbiamo scrivere in maniera più consona. Dobbiamo sfruttare la somma del coseno. Quindi coseno di alfa più beta è uguale a che cosa? È uguale a coseno di alfa coseno di beta meno seno di alfa seno di beta. Adattiamo questa formula al nostro caso. Quindi limite per h che tende a 0 di che cosa? Beh, scriviamo coseno di x coseno di h meno seno di x coseno di h meno coseno di x tutto diviso h. I passaggi sono gli stessi. Anche qui dobbiamo mettere in evidenza il coseno di x. Tra quali termini? Tra questo termine e questo. Quindi limite per h che tende a 0, sapete fare quello del seno, sapete fare anche quello del coseno. Coseno di x in evidenza vi viene coseno di h meno 1 diviso h. Spezziamoli già adesso per non ripetere i passaggi di prima. Poi meno, che cosa? Seno di x coseno di h diviso h. Allora, vediamo un attimo una cosa sopra. Ok, praticamente sono gli stessi passaggi, solo che abbiamo spezzato da subito. Anche qui conviene spezzare i termini che dipendono da h e lasciare da parte quelli che invece dipendono da x. Però senza farlo, cosa possiamo vedere? Possiamo osservare che i due limiti sono questi. Allora abbiamo questo, quindi coseno di h meno 1 diviso h e poi coseno di h diviso h. Ora, coseno di h meno 1 diviso h è un limite che abbiamo fatto prima e abbiamo visto che questo limite tende a 0. L'abbiamo visto qui sopra. Poi qui mi sono reso conto di aver fatto un errore di trascrizione. Cioè qui non è seno di x coseno di h, ma è seno di x seno di h, ovviamente, per la formula che abbiamo visto qui sopra. Quindi qui ovviamente c'è il seno di h. Me ne sono reso conto che era sbagliato perché dove devono venire gli stessi limiti sopra. Abbiamo seno di h diviso h che abbiamo visto essere uguale ad 1. Quindi questo è pari ad 1 e quindi questo se ne va e questo rimane meno seno di x. Quindi che abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto un'altra cosa molto importante, cioè che la derivata prima di coseno di x è uguale a meno seno di x. Allora facciamo un breve repilogo e poi abbiamo terminato. Quando dovete calcolare la derivata del seno e del coseno dovete semplicemente utilizzare, sempre in limite del rapporto incrementale, però il numeratore lo dovete riscrivere in maniera più consola utilizzando le regole di somma del seno e del coseno. Dovete fare una sostituzione per mettere in evidenza e così via. Vi verranno fuori due cose importanti, cioè che la derivata prima del seno è uguale al coseno. La derivata prima del coseno è uguale a meno seno. Per ricordarvele potete fare una cosa abbastanza banale. Ve ne imparate una e poi ricordate il fatto che una è il duale dell'altra però cambiata di segno. Voi vi ricordate che se la derivata del seno è il coseno e quindi la derivata del coseno è meno seno. Con questo video abbiamo terminato. Come al solito se il video vi è piaciuto metti un mi piace, commenta, condividi e ci vediamo. Al prossimo video!